Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi giochiamo a una blitz contro un 2100 e 4. Tutto se non l'hai già fatto, ti chiedo di iscrivervi al canale YouTube e ando qui sotto e ti vedo la campanella per non perdere i prossimi video. Inoltre ti invito a seguirmi su Instagram perché nei prossimi giorni ho in mente alcune belle novità. Quindi però non vi svelo nulla, però seguitemi su Instagram perché pubblicizzerò tutto lì. Di via siciliana, siciliana che ho già commentato, vi metto qui sopra il link di via siciliana in 10 minuti in cui spiego, che poi il video che ha raggiunto anche, ha superato i 20.000 video azioni, quindi molto molto visto, in cui spiego le principali idee di questa fantastica apertura. Dragone, Dragone ha scelto l'anniversario, ha questo nome perché ricorda la formazione Draco, la costellazione. Quindi non, cioè, sì, non so chi era il grande maestro, insomma, che ha pensato questo, però in effetti, non so, potrebbe ricordarlo. Ok, io gioco sempre in attacco, quindi voglio arroccare lungo e poi spingere tutti i pedoni come un pazzo verso il suo arrocco, se ha un arrocco corto. Ma se non ha un arrocco corto non mi spavento, che comunque io attaccherò. L'unica cosa è che magari una spinta tipo F5 potrebbe essere più efficace con l'idea poi di attaccare una colonnei. Ma ha arrocco a lungo e allora tutto secondo i piani. G4, H4, H5 è la mia idea. È anche interessante spingere in G5, perché qualcuno di voi si può chiedere la spinta in G5 è corretta o meno, ci sta. L'idea di G5 potrebbe essere che sul cavallo H5 cambio gli alfieri e poi comunque attacco. Però a me, forse non sono gusti, ma a me piace di più fare G5 quando già ho il pedone in H5. Quindi io qui andrei con H4. Ma secondo me sono gusti. Quello non so bene il motore cosa consiglia, ma penso cambi probabilmente poco. H5 invece è il mio avversario, è molto molto interessante. La sua idea è ovviamente che vuole evitare la mia H5. Ho due opzioni, o G5 o G per H. Allora analizziamole. Cominciamo da G per H, che è il nome della più interessante. Perché? Perché apro la colonna G, sul cavallo per, posso cambiare e poi spingere in H5. Anche sacrificando. Quindi io, essendo una blitz, non analizzo l'altra, ma vado nella prima opzione. Questo è anche il metodo con cui analizzano i grandi maestri. Vedono le candidate, analizzano la prima, quella che secondo il loro intuito è la migliore, e se va bene la giocano. Se ovviamente si hanno tempo, analizzeranno anche l'altra. Giustamente però mi è perso che attua di re, non di cavallo, in modo tale che io non posso spingere H5. Ok, però ho aperto la colonna G. Bene. Come sfruttarla? Allora, potrei giocare cavallo D5, cavallo F4, con l'idea di attaccare il suo cavallo in H5. È un'idea. F4, F5. È un'altra idea. Donna G5. Non mi sembra, faccio granché. Ok, io andrò sul cavallo D5. Mi piace il cavallo al centro, comunque è giusto portare tutti i pezzi all'attacco. Un pezzo al centro è certamente più attivo, quindi portiamolo. Un'altra idea, alfiere 2 F4, con l'idea di attaccare il cavallo. Eppure interessante. Se gioco allo G3, beh, torre in G1 volendo. Non mi sembra sia un problema, se mi cambia va bene e poi continuo a andare con H5. Il mio avversario pensa, buono per me, così recupero il tempo. Ok, ha catturato. Io qui catturerei di pedone, con l'idea di attaccare il peone in E7. Non sono sicuro di essere la migliore, però non dovrebbe essere sbagliata. Quindi ho il suo peone 7, è un peone arretrato, su corona aperta, quindi anche un ipotetico finale dovrebbe essere vantaggioso per me. Però ovviamente mi sono creato il peone debole F3. Quindi ogni cosa ha suoi pro e contro. Ho lo scacco in D4, quando voglio. Secondo me, ora il mio piano deve essere F4, che ha la duplice idea. F5 e alfiere 2 per attaccare il cavallo. Perché vuoi attaccare questo cavallo? Non tanto perché mi dà fastidio, ma perché voglio aprire la conna G. Torre C8, cosa minaccia? Sempre chiedersi che minaccia l'avversario. Secondo me nulla, perché il pedone è difeso, quindi anche D7 non è un problema. Però F4, D7, alfiere 2, mi catturo il pedone, perché la mia regina è solo accaricata. F4, dono G7, alfiere D3, posso fare. Fiere D3, difendo il pedone C2 e poi vado di F5. A me personalmente piace la mia posizione. Penso che entro qualche mossa dovrei riuscire a creare un attacco più convincente. Attenzione qui, dono B6. Cosa minaccia? Nulla. Secondo me nulla. Se è così, è allora alfiere 2 attaccando il cavallo potrebbe essere interessante. Cosa mi può giocare? Cavallo in G3, torre in G1, donna in F2 attaccando l'alfiere. Mi dà fastidio. Sì, questa manovra mi dà fastidio. Ok. Pensiamo a un'altra. F5, cavallo in G3, pedone per G6, cavallo per torre. Pedone per, torre per, scacco. Interessante. Ci potrebbe stare. È rischiosa, però secondo me è interessante. Ok, allora andiamo di F5. Quindi, cavallo in G3, pedone per. Se non cattura il pedone, ok, torre G1. Banalmente. Anche se comunque mi cambia tutti i pezzi. E vabbè. Non si può avere tutto. Se invece cattura la torre, pedone per F7, torre per, donna 5 scacco, re via, al fine di 3, qualcosina c'è. Proprio intuitivamente. Anche perché poi arriva anche la torre. Mi secondo me è interessante. Ok, pedone per. Vediamo. Se è un sacrificio un po' troppo azzardato o se invece è la carta vincente. Pedone per F7. Quindi alla prossima, donna G5 scacco è in arrivo. Poi porto anche l'alfiere. Con alfiere di 3. E poi, dovrei portare anche la torre. Anche se è questo alfiere, forse è interessante anche in H3. Volendo. Attacco la torre. Attacco la casa E6. E forse sì. Comunque alfiere di H3. Mi permette poi di riprendere anche il cavallo. Reper. Ok. Allora, andrei comunque ad alfiere di H3. Quindi attacco di scoperta al cavallo e attacco la torre. Minaccio alfiere di 7. Che è interessante. Perché evita al re di fuggire. Vediamo un po'. Questo momento sono una torre netta in meno. Ma riprendendo il cavallo, qualità in meno, anche considerando il pedone passato, sarebbe anche giocabile. A prescindere dall'attacco al re. La sua briccia del re, ovviamente, secondo me, mi pone una briccia di vantaggio. Considerando anche il tempo del mio avversario che è inferior al mio. Buone chance di vittoria ci sono. Vediamo un po'. Cosa si inventa. Secondo me torre D8 dove giocare. Cioè, c'è poco da pensare qui. Torre D8. E io vorrei creare una rete di ma... Attenzione, donne cavallo F2. Ok. Allora, torre F1. Inchiodo il cavallo, banalmente. Eh beh, sì, per forza. Torre F1. Inchiodo il cavallo e continuo l'attacco alla torre. Non andava bene alfiere per torre. Attenzione qui. E la torre è in presa. E vabbè, la catturo. Cosa fa? Fa un attacco di scoperta. Io catturo. Sì. Mi giocare in D8. E devo tornare con l'alfiere. In E6. Beh, in questo caso ho ripreso la torre. Sono un po' di vantaggio. E la posizione è pure vantaggiosa, quindi va benissimo per me. Donna in C5. Allora, analizziamo un attimo. Qual è la sua minaccia? Nulla, secondo me, in questo momento. Quindi io potrei o spingere il pedone. Tanto cavallo di 3 catturo. Forse è la cosa migliore. Spingo il pedone. Oppure potrei fare donna C3. Però, no. Donna C3, donna per, pedone per, cavallo di 3. E mi catturo la torre. E allora, ok. Io spingo il pedone tranquillamente. Quindi, idea banale. Va da promozione. E poi, lui cattura, io catturo il cavallo. E quindi poi vado in un finale vinto. Continuo a spingere il pedone. Mersore mi si è creato un po' in tilt. Anche dovuto, probabilmente, al tempo. Eh, sì. Beh, una partita molto, molto bella. Secondo me è interessante. Anche l'attacco che è stato creato. Magari rivediamola proprio velocemente. Per vedere se le scelte che ho fatto erano corrette. Allora, fin qui, ok. Ok, teoria del, del, del tregone. Alfeo D7 non è giocata. Qui cavallo F6 o cavallo C6? Ok. Quindi alfeo D7 in realtà è sbagliata. E mi, già, mi dà un leggero vantaggio. F3, mh, F3 non ha consenso. Qui ho giocato distinto, eh, a memoria. Questo, infatti, non si, non si deve fare. Perché F3 serve a evitare cavallo G4. Ma il verso non ha, non ha fatto con l'F6. Quindi F3 attualmente non ha senso. D2, collo per, alfeo per, con l'F6. E qui già mi dà più due addirittura del motore. Arroco lungo, arroco corto. G4, penso vada benissimo. Ok, andiamo avanti. Perché il motore già dà un netto vantaggio alla posizione del bianco? Perché? Perché il bianco sta attaccando. Ha un piano abbastanza chiaro, quello di attaccare il lato di re. Il nero attualmente non ha alcun controgioco. E questo, ovviamente, non può andare bene. Infatti, nel vente principale del tregone, si gioca D5 subito o Tc8 per attaccare subito con A6, B5, e attaccare nel lato di donna. Bisogna sempre contraattaccare. H5, qui addirittura alfie per F6. E in effetti ha senso, quello col senno di poi, perché apro la conna G proprio contro il suo re. Qui la partita era già praticamente finita. Peone per, collo per, alfie per, re per. Cavolo D5 non è la migliore, è la migliore F4. Che lavoro pure pensata, però non mi piaceva questa diagonale. ma in effetti, evidentemente, non c'è nulla. Quindi F4, idea alfie per E2 o F5. Cavolo D5, alfie per, piano e per, ok. Torre C8, F4 è corretta. Donna B6, F5 è corretta. E qui, nella fine, sì, tutto corretto. Ah, attenzione qui. F per G6 non è corretta. Qui torre in H3. Cavallo per F5 e torre in B3. No, vabbè, questa non l'ho pensata completamente. F per G6 non è corretta. Quindi il sacrificio non va. E perché? Ah, perché lui deve riprendere qui. Ok. Riprendendo invece la torre, mi dà parità. Quindi l'attacco c'è, ma non vincente. Se riprende il pedone, di cosa avrei giocato? Torre in G1, avevo pensato. Ah no, c'è la regina, certo. E qui, in effetti, qui, in effetti, non è proprio bella la posizione. Eh sì, non avevo pensato a questa alternativa. Perché? Non posso giurare la torre G1 perché mi cattura. La torre è costretta a difendere l'alfiere, ma non ha case. Quindi qui la posizione è veramente brutta. Forse, tipo, donna G5, tipo per contraattaccare il pione G7, magari la potevo complicare in questo modo, però è chiaro che qui il nero va in vantaggio. Non avevo pensato a questa linea. Pione per F7 è giusta, re per R, alfile H3 è la migliore. Cavallo F2, torre F1, e qui il bianco è in netto vantaggio. Ok, interessante il fatto che il sacrificio comunque non era proprio vincente. Qui la migliore è la torre per F7, che poi era quello che avevo pensato. Donna G5, scacco. Re in F8, però, non ne dà alcun vantaggio. Sul alfile H3, il nero si salva con cavallo in F2. Perché alfile per C8, cavallo per, e qua. forse il perpetuo, no, neanche, non c'è neanche il perpetuo, perché il re ne è 8, e poi torre in F8. Sì, quindi qui in realtà, con questa linea, avrei, avrei perso. Qui su torre per F7, invece, c'è la migliore è alfile D3, e l'attacco Cema da parità. In ogni caso, mi ha da bene, ma comunque, penso sia stata una partita veramente bella. Però, ditemi voi nei commenti che ne pensate, e vi chiedo di lasciare un like, se vi piaceva il video. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Vi lascio qui dei video, in sua impressione, sulla siciliana, proprio l'apertura che abbiamo visto in questo video. e vi lascio qui dei video.